Passeggiare tra i luoghi più suggestivi del centro storico mentre si ascolta buona musica e si degustano le prelibatezze del territorio provinciale. E' in giro per Fan, era un fano che quest'anno torna venerdì 9 agosto con un mix perfetto di cultura, enogastronomia e intrattenimento. In attesa di scoprire i dettagli della manifestazione tra le più amate e attese dell'estate fanese, partono le prevendite in diversi punti della città. Siamo pronti, sperando che anche quest'anno sia un anno bellissimo, eccezionale come è stato l'anno scorso. La novità è che quest'anno ci spostiamo nella zona sud di Fano, non facciamo la zona Pinciarco d'Augusto ma veniamo verso la zona San Paterniano, Borgo Cavour, Via di Ciliegi e Corso Garibaldi. Praticamente poi andiamo a Santa Maria Nuova, a Piazza, questi sono i punti che praticamente gireremo in quest'anno di in giro per Fan. I punti di regostrazione sono 8, tra la piazza partenza e la piazza finale col caffè, praticamente i punti vendita sono come l'anno scorso, Via Lecceso del Battisti del punto Ufficio Turismo, in piazza 20 Settembre e alla sede della cooperativa Tre Ponti, sede Proloquo, Bar Bomber Bar, questi sono i tre punti pre vendita. Anche la musica avrà un ruolo importante ad in giro per Fan e i vari concerti dislocati lungo il nuovo percorso come di consueto accompagneranno fanesi e turisti nel viaggio culinario e culturale. Alle 22.30 poi in piazza 20 Settembre il grande concerto tributo a Lucio Battisti. Grande musica per finire questa bella manifestazione che sperando poi che il cielo, perché noi siamo sempre subordinati a quello che chi decide chi è sopra di noi, perché questa manifestazione grande valore. Naturalmente qui ringraziamo sempre il Comune, ci dà un'opportunità importante con tutti i musei, chiese aperte. Anche quest'anno, oltre alla Proloquo di Fano, abbiamo la Proloquo di San Costanzo con la Polenta, Urbagna col Crostolo, Acqualagna col Tartufo e Monte Labate con la Pesca, però l'augurio è che da qui in avanti dovremmo riuscire a dare, per dar valore al territorio, ogni postazione una Proloquo di Vesta.